Buonasera, sono Fabio Reziosi, rappresentante per l'Italia di UNRIC, l'ufficio delle Nazioni Unite, Consiglio a Bruxelles, che si occupa di informazione. Siamo la voce delle Nazioni Unite in tutta l'Europa occidentale, in particolare mi occupo di Italia. Devo ricorrere a questo strumento per inviare il mio saluto, me ne scuso, non è possibile per me essere in vostra compagnia quest'anno, ma prometto che farò il tutto per essere tra voi nelle edizioni successive. Sono qui a portarvi il nostro saluto, il saluto all'ente Sbandieratori Cavenzi, la città di Cava di Tirreni, per questa 28esima edizione del Festival delle Torri. Siamo lusingati per il fatto che per la prima volta quest'anno l'ente Sbandieratori Cavenzi abbia accettato con entusiasmo l'idea proposta da me soltanto alcune settimane fa, in fondo, di dedicare la rassegna ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Come è spiegato molto bene nel vostro comunicato stampa, si tratta di 17 macro obiettivi che tutta la comunità internazionale, senza eccezioni, si è posta nel 2015 con l'obiettivo appunto di raggiungere questi 17 cosiddetti goals nei 15 anni successivi, quindi entro il 2030. Come vedete si tratta di macro obiettivi che di fatto comprendono la stragrande maggioranza delle principali attività umane. L'ente Sbandieratori Cavenzi in questo senso ha colto esattamente nel segno, in quello che è il messaggio che noi auspichiamo la società civile possa raccogliere dalle Nazioni Unite, cioè quello di tradurre in atto, attraverso iniziative come questa, che peraltro è molto originale nel contesto delle varie attività che si svolgono nel mondo, e quindi far calare questi obiettivi che sono stati decisi a livello di governi, nella società civile, direi nella vita di tutti i giorni, in una forma in questo caso così speciale, così artistica. Quindi è davvero con entusiasmo che vi mandiamo il nostro saluto e con gli auguri di maggior successo. Grazie.